Una giornata simbolo, quella dell'8 marzo, per accendere i riflettori sul ruolo della donna all'interno della società, sui suoi diritti negati e sulle troppe violenze subite, verbali e fisiche. Anche quest'anno, anche a Taranto, lo sciopero generale di tutte le lavoratrici e lavoratori contro la violenza fisica sulle donne, organizzata dall'USB Taranto. Beh sì, è bellissima iniziativa delle donne USB che stamattina stanno distribuendo mimose, i volantini, richiamando l'importanza della donna, che è un po' il centro della famiglia e come dire, anche tutto quello che le donne devono subire, lo assistiamo con le tantissime notizie rispetto ai maltrattamenti, dei femminicidi e tutte queste situazioni qua, come dire, che purtroppo le donne sono costrette a subire. Noi abbiamo pensato stamattina di distribuire le mimose anche per dare un segnale, come dire, di cambiamento. Ho scoperto, lo dico in tutta onestà, che siamo l'unica organizzazione che ha pensato di mettere qualcosa in campo per l'8 marzo. Questo mi fa piacere da un lato, mi dispiace dall'altro, perché la sensibilità rispetto alle donne credo che dovrebbe essere un fatto scontato da parte di tutte le organizzazioni sindacali.